Nel corso di questi giorni ne avete sicuramente sentito parlare, oggi parleremo dei Google Pixel 6 perché sono trapelate delle immagini molto molto affidabili, mandate in rete da niente po' di meno che John Prosser. John Prosser è un leaker molto affidabile che nei mesi scorsi ha praticamente azzeccato tutte le caratteristiche dei iMac con M1, degli AirTag, insomma, veramente una persona che sa quel che dice. Ah, e per non farsi mancare nulla ha spoilerato già anche il design dei nuovi MacBook Air colorati, quindi di carne al fuoco ce n'è veramente tanta, facciamo partire la sigla e cominciamo subito. Google è un'azienda molto particolare, sicuramente tra le mie preferite Google Pixel sono tra i miei smartphone preferiti in assoluto, purtroppo non ne ho ancora provato uno perché oggettivamente mai sono riusciti a convincermi al 100%, ad esempio il Pixel 4, un prodotto veramente pazzesco sotto tutti i punti di vista e poi c'era quel metodo di sblocco innovativo, sì, per carità sblocco 3D, ma poi non era veramente ottimizzato. Ci sono tante altre piccole pecche qua e là sui dispositivi Google Pixel, ad esempio lo scorso anno, anzi quest'anno, con il Pixel 5, lo Snapdragon 765G. Io capisco che è un processore che vada sicuramente benissimo, ma chi acquista uno smartphone di Google, chi acquista un Google Pixel, lo fa perché vuole tra le mani un top di gamma, quindi io spero veramente che questo possa essere l'anno buono per Google, che poi parlare di anno buono è un po' difficile questa volta perché il web si è proprio distinto in due controparti separate. Da una parte quelli che apprezzano il design di questo Google Pixel 6 ipotetico e dall'altra parte quelli che lo detestano. Io sinceramente lo apprezzo, mi piace. Mi piace perché finalmente vediamo qualcosa di nuovo, qualcosa che non è scopiazzato da Samsung o da Apple. e su questo Google veramente si è sempre impegnato a tutto questo punto di vista e non gli si può dire veramente nulla. Sul retro, come vediamo, il modulo fotocamera è incastonato in una banda in vetro lucido e il retro di per sé è satinato con due tonalità di colore, più chiara in basso e un arancione che sembra molto forte nella parte superiore dello smartphone. Secondo i vari leak usciti, in rete dovrebbero essere presenti anche altre due colorazioni, la classica, nera, opaca, secondo me molto molto bella e una un pochettino più particolare, un rose gold champagne, anche questa ha una colorazione molto particolare, un po' meno bella secondo me. Quest'anno Google non produrrà uno smartphone standard e uno smartphone XL. Per quale motivo? Perché la dicitura XL stava a significare più grosso. Ecco, Google evidentemente ha capito che serve un modello PRO dei suoi smartphone, infatti quest'anno arriveranno i Google Pixel 6 e il Google Pixel 6 PRO. In Italia ci saranno? Non lo so, bella domanda. Vedremo? Speriamo di sì. Sicuramente le differenze tra il modello standard e il modello PRO sono non tantissime ma sicuramente di rilievo. Infatti, come vedete da queste foto, il modello PRO sarà più grande, quindi avrà un display con una diagonale sicuramente più ampia, la risoluzione dello schermo sarà sicuramente più alta e probabilmente cambierà anche il refresh rate e sarà più alto nel modello PRO. Inoltre, sul retro c'è una grossa differenza, ovvero sul PRO una fotocamera in più. Questo cosa sta a significare? Che probabilmente sul Google Pixel 6 troveremo la lente wide e la lente ultra wide, comparto fotografico al quale Google ci ha già abituato con i precedenti modelli e sul modello PRO troviamo appunto questa fotocamera in più che potrebbe essere un teleobiettivo. Ovviamente questi sono soltanto dei render, quindi non sapremo fino al momento dell'uscita se effettivamente questa lente in più sia un periscopio. Io lo spero, lo spero veramente tanto perché manca uno smartphone con un vero e proprio zoom, eccezione fatta dell'S21 Ultra, che secondo me ad oggi è il re dei smartphone Android. Spostiamoci adesso però sulla parte anteriore dello smartphone. Come potete vedere la fotocamera rispetto al Google Pixel 5 è stata spostata dal lato sinistro al centro, le cornici sembrano molto ben ottimizzate e ti prego Google, fai in modo che i bordi restino simmetrici tra loro, mi raccomando eh! Inoltre, analizzando meglio queste foto possiamo vedere che sullo schermo è presente l'icona di un'impronta digitale, questo sta sicuramente contro ogni dubbio a segnalare che il Google Pixel 6 adotterà un sensore di impronte digitali sotto allo schermo e i più attenti di voi sapranno che Google fino ad oggi non ha mai utilizzato questa tecnologia, che sicuramente ormai è ben consolidata, ben studiata, funziona bene, ok, ci sta, però secondo me il sensore di impronte digitali fisico rimane comunque ancora superiore. Direte voi, tutto bello fino adesso, ma chi se ne frega, alla fine sembra il classico smartphone Android che costerà 1000€. Sì, probabilmente è vero, ma attenzione perché quest'anno sembra proprio che Google riuscirà a prodursi in casa i processori, un po' come fa Apple, questa volta però Google lo farà in collaborazione con Samsung. Cosa significa questo? Lo abbiamo visto già con i processori M1 per quanto riguarda Apple. Prestazioni aumentate con consumi assolutamente ridotti. E beh, tanta roba, tanta roba perché fino ad oggi i smartphone Pixel potevano contare su un software veramente, veramente impeccabile. Anche l'hardware oggettivamente funzionava bene, ma immaginate adesso con dei processori cuciti apposta sui propri prodotti e così come il software. Beh, veramente sembra proprio che i Google Pixel saranno i veri e propri iPhone con Android. Io sono molto molto contento, anche perché in questo periodo sto provando proprio un MacBook M1 e posso dire che è tanta roba. Quindi ho grosse grosse aspettative per quanto riguarda questo Google Pixel 6. Insomma, io non vedo veramente l'ora di poter mettere le mani su questo smartphone, però prima di chiudere fatemi spendere due parole sul Pixel Watch. Sì, perché John Prosser ha pubblicato in rete anche le foto render di questo fantomatico Pixel Watch. Uno smartwatch piccolino, rotondo, molto minimale, con cinturini colorati, molto carino secondo me esteticamente. Sicuramente monterà Wear OS, Android Wear. Speriamo che questo sistema operativo funzioni bene, almeno sugli smartphone di Google stessa, altrimenti sarebbe un vero e proprio macello. Se volete approfondimenti sul Pixel Watch lasciate un commento qua sotto. Ovviamente io vi invito a lasciare anche un like per supportare il mio lavoro, ad iscrivervi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate di questi Google Pixel 6. Qua sotto in descrizione trovate l'articolo riassuntivo. Io sono Luca Crocco e per te che è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!